Nuovo incontro istituzionale per il movimento spontaneo agricoltori delle province di Lecce e Brindisi dopo quello della scorsa settimana con il ministro Fitto. Una delegazione è stata accolta dall'assessore regionale Donato Pentassuglia e dal direttore dipartimento agricoltura Gianluca Nardone. Sono stati affrontati problemi legati all'agricoltura salentina a partire dal drama Axilella, la richiesta di soppressione delle misure a sostegno dei reimpianti e gli indennizi per evitare il rischio di abbandono degli ulivi sul modello della regione toscana. È stata chiesta l'approvazione delle due emozioni presentate dal consigliere regionale Paolo Pagliaro e per le quali erano state già raccolte migliaia di firme a sostegno, ovvero l'estensione dell'indennizzi Axilella dagli attuali tre ad almeno cinque anni e all'applicazione sui mutui agricoli e sui finanziamenti ISMEA di una moratoria di almeno cinque anni. Sono stati poi affrontati temi quali la zootecnica, l'allevamento, la tutela del Made in Italy con la specifica richiesta di controlli più serrati e stringenti sui prodotti in arrivo dall'estero via mare non solo il caro costi di produzione, l'annoso problema del gasolio agricolo e soprattutto il problema dei consorsi di bonifica con la richiesta urgente di soppressione di tutte le cartelle sattoriali in essere. Il movimento spontaneo agricoltori ha consegnato a Pentassuglia e Nardone un corposo documento, una sorta di ricetta per risolvere i problemi della martoriata agricoltura salentina. La disponibilità dell'assessore e del capo dipartimento hanno fatto ben sperare i rappresentanti che auspicano la soluzione delle tante questioni agricole rimaste finora risolte. Inoltre presso la sede del mercato delle idee di muro leccese nella serata di martedì sera si è costituita formalmente l'associazione salentina agricoltori, nominato presidente William Murciano, vicepresidente Gianluigi De Pascalis, segretario Bruno Giannone, tesoriere Pino Migiano. Si tratta della posa della prima pietra nella costruzione di un progetto partecipato che si spera possa essere foriere e portatore di idee condivise per la progressiva risoluzione degli innumerevoli problemi del comparto agricolo.